cioccolata la mia preferita che buona nel caso te lo fossi scordata non sei da sola questa è per me davvero prendi questo ma che cosa volevi la cioccolata giusto aspetta e vedrai susi aspetta vediamo come te la cavi in questa sfida cioccolatosa che ho preparato pessimo inizio certo non voglio mangiarmi una cipolla anche se sono sicura di cavarmela che schifo ti manca una cosa importante gli zuccherini grazie forse migliora no è ancora disgustoso meno male che io un bellissimo e dolcissimo lecca lecca non è giusto mi dispiace che la pensi così sono sicura che lecca lecca starà benissimo con la cioccolata delizioso credo proprio che aggiungerò qualcosa al tuo dessert vediamo un po se ti piace il wasabi ancora cioccolata per favore prendine quanta ne vuoi brucia ma che diavolo perché susi perché pensavo che ti sarebbe piaciuto non credo ai miei occhi ho dei ghiaccioli mentre io ho dei peperoncini non riuscirò mai a mangiarli prenditi pure il tuo tempo mentre io inzuppo queste delizie ghiacciate nel cioccolato fantastico non riesco a fermarmi potresti farmene assaggiare uno oh no tuoi peperoncini buon appetit va bene inizio con un piccolo assaggio così è troppo anche per me ho bisogno di qualcosa di fresco il ghiacciolo ha davvero aiutato te l'avevo detto che erano buonissimi grazie signore grazie non c'è nulla di meglio delle patatine non direi la stessa cosa dei cetriolini ma forse la cioccolata nasconderà il loro sapore oh che aspetto orrendo rivoltante non si può mangiare è stato molto spiacevole da guardare proverò a dimenticare mangiando qualcosa di meraviglioso questo lo riempiamo per bene patatine al cioccolato anche se non nel senso classico questo è qualcosa di nuovo e di meraviglioso ora le assaggio che aspetto appetitoso da leccarsi i baffi ne devo assaggiare uno Monica non si accorgerà di niente se starò attenta giù le mani Susy sono mie un altro buon piatto tutto per me sono sicura che la cioccolata starà benissimo con dell'anguria ma starà malissimo sui limoni guardali posso sentire quanto sono aspri da lontano spero proprio che il cioccolato addolcisca il sapore buona fortuna a me l'aspro è insostenibile non riesco a guardare resisti Susy adesso basta non ce la faccio più ho voglia di un po' di cioccolato senza i limoni a rovinarmelo lo sapevo che era buonissimo come fai ad essere sempre così fortunata? immagino di essere nata così anelli di caramelle che divertenti da quale comincio? la cosa qui sta diventando crudele a te caramelle e a me broccoli almeno sono un cibo salutare questi potrebbero essere i miei gioielli più belli o se non altro appetitosi i diamanti fatti di zucchero sono i migliori anche io potrei fare come fai tu smettila di cincischiare e mangia quei broccoli va bene lo farò la sai una cosa? sono deliziosi ma ne sei sicura? jackpot ancora caramelle una ciotola intera di skittles un sogno che diventa realtà il pollo mi piace ma non con la cioccolata non sei mai contenta però rilassati e goditi il momento come faccio io wow ho una ricetta fenomenale skittles al cioccolato ricordatevela potete farla anche voi a casa smettila di vantarti va bene assaggiamo poi dimmi se è buono sono sicura che sarà pessimo come al solito eccoci qua non era proprio quello che volevo sai una cosa Monica? è incredibilmente buono sul serio? sul serio? perché dovrei mentirti? dammene un pezzo voglio assaggiare lo renderò ancora più buono cospargendolo di skittles è così colorato è disgustoso Susie mi ha ingannato come mi dispiace che male ma è un cactus come faccio a mangiarlo? finalmente la fortuna sta girando la banana ci sta benissimo con la cioccolata togliamo la buccia non vedo l'ora di mangiare qualcosa di veramente buono lo sapevo buonissimo in effetti sembra davvero buono il sapore è anche meglio ops ops che maleducata sei solo arrabbiata per chi hai fame mangia il tuo cactus che io finisco la mia frutta e adesso che mi invento? ci sono prima di tutto una bella spuntatina sta funzionando ora ci mettiamo quanta più cioccolata possibile che strano sapore ma che c'è dentro? vermi gommosi wow questa sì che è una piacevole sorpresa ma allora sono stata fortunata non c'è proprio giustizia a questo mondo non ho più fame un hamburger? devo inzuppare un hamburger nella cioccolata? questo è il più grande e meraviglioso orsetto gommoso che abbia mai visto sono così felice d'accordo ormai dovrei essermi abituata a questi pessimi accostamenti e credo che adesso andrà meglio ma non è male mmm che disgusto ma come fai a mangiarlo? mi è piaciuto e non direi di no a un bis alcune persone sono proprio strane questo orsetto gommoso è più nel mio stile meglio di quanto pensassi non ti dispiace se ne assaggio un po' vero? in verità sì che mi dispiace dai qua scusami ma sei tu che me lo hai chiesto? ops non c'è niente di meglio di una sfida cioccolatosa siamo sicuri che anche voi la pensiate allo stesso modo? lasciateci un bel mi piace e gustatevi queste splendide papere ciao ciao e alla prossima ciao